riforma degli enti locali ruolo centrale del comune nell'erogazione dei servizi ai cittadini e della provincia per la gestione delle funzioni di area vasta sono elementi essenziali della riforma degli enti locali approvata il 26 settembre dal consiglio regionale la nuova legge recepisce le indicazioni del decreto 95 2012 cosiddetta spending review che obbliga i piccoli comuni alla gestione associata delle funzioni fondamentali e consente il superamento delle attuali comunità montane a favore dell'unione dei comuni montani seduta sull'occupazione il 26 settembre si è svolta in mattinata una seduta straordinaria sulle prospettive dell'occupazione in piemonte nel settore automotive sul tema sono intervenuti con una comunicazione il presidente della giunta e l'assessore al lavoro la conclusione del dibattito e la votazione di alcuni ordini del giorno sull'argomento presentati rispettivamente dai gruppi federazione della sinistra partito democratico italia dei valori e lega nord sono previste per la prossima seduta in piemonte con gusto l'enogastronomia come eccellenza difesa della qualità e opportunità di sviluppo e il tema di copertina del nuovo numero di notizie la rivista della regione piemonte da pochi mesi è rinnovata nella grafica e nei contenuti il cibo fra ricerca tradizione ed economia e anche al centro del convegno in piemonte con gusto tenuto a palazzo lascaris il 27 settembre con la presentazione dei servizi di attualità e approfondimento del numero 3 del magazine notizie riflettere sulla piaga dell'usura l'osservatorio sull'usura si è riunito a palazzo lascaris il 26 settembre per programmare l'attività informativa e di prevenzione da svolgere nelle scuole medie superiori del piemonte nella stessa giornata il consigliere tullio ponso delegato all'osservatorio è intervenuto a torino presso le officine grandi riparazioni all'incontro con gli studenti per riflettere sulla piaga dell'usura e per assistere alla proiezione del documentario vite da recupero di enrico verra storie di principi a palazzo lascaris sono state presentate le autobiografie di maria pia di savoia e michelle de bourbon parm la mia vita i miei ricordi e un principe nella tempesta i racconti spazzano tra aneddoti e curiosità momenti ufficiali e intimità i principi si descrivono come persone comuni e semplici che pur avendo avuto il privilegio di nascere in una famiglia reale non hanno mai dimenticato di essere due persone con le fragilità e le passioni di ogni essere umano